È importantissimo soprattutto in quanto presenta delle criticità sulla parte corrente che riguardano comunque tutti i comuni italiani. La nostra volontà comune rimane quella di non pesare sulle famiglie in difficoltà per cui ci impegneremo anche per questo mandato di non effettuare aumenti sulle tariffe per la mensa, per lo scuolabus, per il nido, per l'assistenza degli anziani e dei disabili. È un bilancio, quello del Comune di Arona, assolutamente sano, ha un buon avanzo libero. Questo ci permette di intervenire immediatamente nei momenti di difficoltà e di essere presenti anche per i servizi essenziali che migliorano la qualità della vita del cittadino come gli interventi che abbiamo fatto sull'illuminazione pubblica. Per quanto riguarda la parte urbanistica, è importante il progetto di elaborato del piano paesaggistico che vuole proteggere e valorizzare il patrimonio della comunità. Tornando alle mie classiche competenze deleghe, sul commercio, il distretto diffuso del commercio del Lago Maggiore ha avuto un buonissimo esito. Sono stati dati 55 contributi per un valore totale di 357 mila euro. Nella solo Arona sono state aiutate ben 29 attività per un contributo sulla città di Arona di 114 mila euro. Per quanto riguarda e concludo con la protezione civile, abbiamo rinnovato la convenzione con la protezione civile fino al 31 12 2026 e li aiuteremo, ci siamo presi l'impegno, di aiutarli per l'ampiamento della loro sede a Montrigiasco in quanto fortunatamente hanno aumentato il numero dei mezzi e il numero dei volontari.